Dal punto di vista della curva di questa malattia, la prima variante, la seconda variante, lei può escludere che noi ci si trovi ad autunno prossimo con una nuova variante, ad esempio, professore? Non si può escludere questo. Certo è che il comportamento di questo virus, la biologia di questo virus, non sembra essere revertante, cioè non sembra tornare indietro nella forma più aggressiva come invece fanno altri virus. Sembra voler diventare endemico, cioè voler persistere e rimanere nell'ospite. Quindi la tendenza è sempre ad avere una virolenza minore, sempre inferiore, e quindi io credo che di qui a quest'estate le cose andranno sempre meglio. Senta l'Onorevole Regeni, diceva una cosa... Quello che può accadere è che in un altro paese, mentre da noi farà caldo, in un altro paese, in un altro emisfero dove farà freddo, possa insorgere una nuova variante aggressiva. Questo non lo possiamo escludere. Senta, l'Onorevole Ruggeri parlava riguardo all'autoisolamento. Diceva che in altri paesi, negli Stati Uniti, ma anche in Svizzera, in Europa, ci sono molti paesi, dopo cinque giorni che uno non ha sintomi, caso capezzone, si esce da casa in maniera automatica, in maniera molto più semplice, senza dante burocrazie. Sarebbe una bestemmia arrivare a questo genere di comportamento, diciamo, di libertà? No, no. Trovo che sia giusto, anche perché questo virus, in questa forma, la variante Omicron è asintomatica nell'80-90% dei casi, contro le varianti precedenti che erano asintomatiche solo nel 40%, ospedalizza il 50% meno, eppure avendo oggi dieci volte più nuovi casi rispetto all'anno scorso, abbiamo meno ospedalizzati. Quindi la situazione è completamente diversa rispetto all'anno scorso. Una domanda di Labbate. No, ho sentito il professore dire, no, ma è incuriosito il dato, che la variante Omicron è per l'80-90% produce asintomatici. Lei ovviamente si riferisce alle persone che hanno il vaccino, professore? A livello globale è stata fatta questa valutazione, in particolare in Canada e anche in Sudafrica. In Sudafrica devo dire che la vaccinazione è intorno al 20%, quindi di fatto è una variante che non va confrontata né con il raffreddore e con l'influenza. Ecco, questi paragoni non vanno bene, perché danno un messaggio sbagliato. È un virus comunque che è ben diverso dalle varianti precedenti. Questo sì. Però per rispondere alla domanda di Labbate, anche in paesi in cui la vaccinazione è più bassa dell'Italia, l'Omicron ha avuto un tasso di ospedalizzazione molto inferiore.